Grazie a tutti. Grazie alla struttura ancora, l'amico Antone, la signora Anni, i figli, a tutti i personali, complimenti al personale. Maria doveva collaborare con me ma se ne è scappato, ha detto non me la sento, ma innanzitutto ringrazio gli amici, Mario Guida per la parte tecnica e il giovanottino, Michele il tecnico, un saluto, la moglie, gli amici di Cesa che stanno qui, a tutti voi. Vi do appuntamento alla prossima, grazie sempre della vostra gentilezza da parte mia, grazie agli artisti intervenuti sempre enormemente, ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.